Ma perchè non ci abbiamo mai tutte le porte? Ho stato l'ulti adesso Raggiù in fondo Vai vai, fatto Lo sento, eccolo Spara io Certo che gli sparo Cos'è? Stato ripusando? Eh, sta arrivando Dove è caso strano c'è lei Risto? Grazie, ma durerò poco Oh, che goduria Ecco Durero molto poco Ehi, 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 ehi. Cucu. Arriba no. C'è l'ho presa. Quello, esatto. One tap. Cristo. Sta arrivando Vyper da dietro di te. Ma questa stava così? Cucu. Carica. Ma se me ne vado, tipo? Ricerca, ricerca, ricerca. Eccolo. Eccolo. Sta alla fine stretta. Spike planted. C'è Sage? Sage era? No, sta qua. Sage sta dietro di te. Dai 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 Nooo che f***** Non può stare Simo, entra nella cazzo Eh aspetta che vedelo Vedelo Un sova, uccidere un suo compagno di squadra Domani Che è sta cosa nera? Domani anche tu A destra ce l'hai in un filo dash Ah 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 Bella questa Dai mettila fuori la testa Ah c'è tua Eh scusate i bambini F**k Oh f**k Time, time, time Heal E' 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 5k 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 6k 7k 7k 8k 8k 9k 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 10k 11k 12k 12k 13k